benvenuti a questo appuntamento dei salotti delle meraviglie con Fabriziani da Roma che ci intratterrà, ci stuzzicherà con uno degli argomenti che da molto tempo lo interessa, fa parte dei suoi studi comunque sulle culture arcaiche e adesso magari ci spiega un po' anche questa sua passione, questi suoi studi, queste sue ricerche. Vai pure Giuliano, benvenuto. Sì, stavo dicendo allora con Sandro noi ci conosciamo perché avevamo un amico in comune che era il citatissimo Giovanni Feo, citatissimo e compiantissimo purtroppo, di Pitigliano. Io sono di Pitigliano, sono nato lì, poi ho vissuto a Roma, Pitigliano è un po' l'epicentro, uno degli epicenti della cultura etrusca per cui chi nasce lì un pochino si appassiona alle culture arcaiche perché le vede, ha i contatti sul territorio, continuamente. Le vive proprio. Le vive, assolutamente, ma le vive soprattutto perché io ritengo che almeno in quei territori, parlando solo di etruschi, fino agli anni sessanta circa, le famiglie vivevano nello stesso modo in cui vivevano le famiglie etrusche. Non era cambiato nulla, cioè il contadino si alzava la mattina di notte di fatto, faceva il viaggio per andare sulla terra di notte per arrivare con la luce in modo che aveva più ore di lavoro e la stessa cosa faceva la sera, si diceva da stelle a stalle, quindi tornava poi in una stalla e quindi questa era la vita che facevano un po' gli etruschi. Non c'erano soldi, c'era lo scambio, c'era una solidarietà fra le persone che si andava ad opere. Dico un attimo questa cosa perché forse non tutti la conoscono. Quando si mieteva, per esempio, attraverso dei macchinari giganteschi, erano dei mostri e quindi era anche molto faticoso farlo, si andava ad opere, cioè 10, 15, 20 contadini della zona andavano a mietere i campi di un contadino solo in un giorno, due giorni, in modo da concentrare le forze in una raccolta soltanto. Alla fine della vendemmia si festeggiava, la sera, il pomeriggio, si festeggiava sull'aia, quindi chi sapeva suonare portava la chitarra, si cantava, si ballava, si suonava. Chiaramente i contadini che dal paese distavano 2, 3, 4 chilometri, anche 5, per loro era un avvenimento, era un rito pagano, io ve lo ricordo benissimo, nascevano amori perché lì c'erano le mogli, le figlie che cucinavano, i figli che avevano lavorato, quindi si conoscevano, era un'occasione diciamo anche di scambi, scambi di notizie culturali e anche però di nascite, di nascite sentimentali, ecco questa la avveniva. Ed era un rito pagano, i riti pagani anticamente erano questo, probabilmente, cioè questa è la coda di qualcosa di molto più complesso. Ora insomma il sistema era questo qui, quindi chi nasce in quei posti, un pochino poi avendo un'età in cui è stato con un piede nella cultura contadina e con l'altro in quella metropolitana non può non essere, diciamo, affascinato dalle culture arcaiche, come lo era appunto anche Giovanni, questo nostro amico comune che penso che conosciate un pochino. Allora, quindi io mi sono sempre occupato un pochino delle culture arcaiche, soprattutto dei greci, ho pioggiato molto in Grecia, dei romani e questa sera Sandro mi aveva invitato a parlare di Nechia perché la Nechia era uscita fuori quando... Nello scorso ciclo di... Laura fece la cosa sulla di mezzo. Proprio Laura. Allora, la Nechia è il rapporto dei vivi con i morti. Questa cosa che può sembrare, che è la necromanzia, noi la chiamiamo necromanzia, può sembrare una cosa un pochino, è una cosa che era diffusissima nelle civiltà arcaiche, era una cosa normale, diffusissima, perché tutte le credenze, e questo lo sappiamo perché abbiamo una documentazione letteraria storica dei popoli, ci confermano che la gente pensava che le armi dei defunti in qualche modo sopravvivessero, diciamo, su questa terra. E quindi, conseguentemente, metteva in atto delle ritualità, delle liturgie, dei modi per rapportarsi a queste presenze, in modo che, anche da sfruttarle, in modo di sfruttarle anche sicuramente, ma in modo che non fossero nocive, diciamo, per la quotidianità, per la vita di... e questa cosa si può riscontrare in tutti i paesi del Mediterraneo arcaici, ma attualmente la riscontriamo anche nel sud del mondo, in larghe parti del sud del mondo, ci sono delle popolazioni, per esempio in Cina, i cinesi pensano alla sopravvivenza dei morti che sono intorno a loro, le popolazioni Yoruba, insomma, che sono tante poi, e poi anche i Torraia che tu hai fatto vedere l'altra volta, Sandro, quelli dei morti che mettono... Sì, nelle nicchiette. Nelle nicchiette che portano in giro, ci parlano, eccetera. La verità è un, diciamo, un sentimento della morte che non è più il nostro assolutamente. O perlomeno il nostro non è più il loro, perché è sempre che è quasi sempre stato così. Noi ci siamo, diciamo, materializzati, tutto è razionale. Ma anche il nostro tempo è completamente lineare, invece in quella visione era assolutamente circolare. Infatti i morti non sparivano, erano i non vivi. Erano i non vivi, esattamente. Non visibili, insomma. Solo che noi parliamo dei morti da vivi, quindi è molto difficoltoso dai vivi parlare di morti. Però praticamente la concessione antica era che c'era una manifestazione magica, per cui la concessione unitaria del mondo, del cosmo, per cui quando si moriva lo spirito del... si ricongiungeva allo spirito universale e lì in qualche modo stava, quindi non spariva, ma stava nello spirito universale del mondo e quindi riappariva. Allora, questa cosa a me poi mi ha incuriosito molto. Cominciamo dalla fine, allora. Perché io ho frequentato molto, diciamo, il napoletano, Napoli, perché io fra le altre cose c'ho anche un'associazione di archeotrekking per cercare sempre di andare a verificare poi sul territorio le cose di cui parliamo, insomma. Il napoletano è ricchissimo di antiche culture. Per il napoletano intendo anche i campi fegrei, che è tutta quella zona che va da Pozzuoli, insomma, da Bacoli fino a Napoli, che è una zona anche particolare perché poggia su una caldera, cioè su un vulcano attivo, sotto tutto fuoco, che ogni tanto in vari punti esce fuori. Per esempio ci sono la solfatara di Pozzuoli, che è un luogo che è stato visitabile fino a circa un anno e mezzo fa, poi lo hanno chiuso perché sono morti, non so se ve lo ricordate, una famiglia, un bambino con il padre, perché sono andati troppo vicini ad una emissione, insomma, di gas e di vacuri e sono morti e quindi lo hanno chiuso. Ma quello è un posto, voglio dire, che bisogna vedere nella vita perché è un posto infernale, quindi sono tutte queste acque che bollono, fumi che escono. E tutta la zona dei campi fegrei, che si chiama appunto campi fegrei perché sono campi fiammeggianti, no, fegrei, assieme quindi al vulcano, al vesuno, eccetera, è tutta una zona che è la superficie di un bacino infuocato che sta sotto, nemmeno tanto sotto, no? Quindi quello loro sanno che sicuramente esploderà, non si sa quando, ma sicuramente esploderà. E i napoletani sono consapevoli di questo, però loro ci convivono evidentemente con una filosofia, con uno stoicismo, non so come chiamarlo. E nel napoletano questa, io non so se voi conoscete, insomma, la zona di Napoli, siete mai stati? I napoletani che hanno una bruttissima fama, invece secondo me sono delle persone napoletano, diciamo, non camorrista, il napoletano corto è una persona meravigliosa, splendida. E loro tutti credono, loro credono nelle presenze, diciamo, dei loro defunti. Napoli è in tutta la zona, diciamo, circostante. Infatti c'hanno delle forme in cui, ancora oggi, no? Con cui ci si rapportano. Quella più, naturalmente, più, diciamo, corrente, che conoscono tutti, è il gioco dell'otto, no? Quindi loro aspettano sempre con loro defunto, nel sogno, perché anche anticamente il sogno era una del tramite fra il vivo e il proprio familiare, gli danno i numeri. Ma non solo, non sono i numeri direttamente, ma anche loro hanno tradotto, con la smorfia, no? Tutte le situazioni della vita in numeri. Quindi ancora questa concessione magica, insomma, legata un pochino agli avvenimenti che sono sintomo di qualcosa, di altro e di più, no? Allora, le popolazioni antiche si rapportavano, appunto, con i loro, con i difunti, attraverso due strade. Una si chiama Nekia, che era il richiamo delle anime dei defunti verso di noi, verso il vivo, verso la terra. E l'altra è la Katabasi, che era invece la discesa del vivo negli inferi. E abbiamo molti esempi, no? Che è quello che fa anche Dante all'inizio del suo percorso. Dante fa esattamente una Katabasi, cioè non la fa, se la inventa, però quello è, cioè scende con una sua guida negli inferi. Esattamente. Ma, diciamo, le due discese più importanti sono quelle nell'Iliade, scutate nell'Odissea di Odisseo, che con la maga Circe lo manda, vai nel territorio dei Cimmeri. Aspettate che lo prendo, leggiamo le due righe in cui si parla di questa cosa. E quindi si immerse il sole, quindi Circe dice vai a trovare, vai dai Cimmeri e vai a chiedere le cose che vuoi chiedere attraverso, lui parte praticamente attraverso un giorno di navigazione. Circe sta chiaramente nell'isola di Circe, nell'isola di Circe che era il Circeo. E dice l'Odissea, si immerse il sole, tutte le vie si coprirono d'ombra, giunse la nave presso l'oceano ai gorghi profondi. Quindi praticamente ci mette un giorno, naviga per un giorno. Qui sorge la città, il popolo è qui dei Cimmeri, che vivono sempre avvolti di nebbie, di nubi, e coi raggi mai non li guarda il sole fulgente che illumina il mondo. Quindi in un giorno di navigazione, perché noi non sappiamo, non viene specificato il luogo, però parla di Cimmeri. E nei campi fegrei, quando arrivarono i greci, quindi i greci arrivano, la prima città greca fondata in Italia è stata Pitecusa, che sarebbe l'isola d'Ischia. Parliamo del fine, nono secolo, inizio, ottavo secolo. Immediatamente dopo hanno fondato un'altra città, che è Kuma, chiamata Kuma, che sta di fronte all'isola d'Ischia, solo che sta sul continente, quindi sulla terra fegna. Ma lì c'era già un'altra popolazione, la popolazione preesistente erano questi Cimmeri. Io li faccio girare un po', li faccio viaggiare con Google Earth nel frattempo. Sì, in greco si chiamavano Chimeroi, Chimeroi, Chimeroi. Andiamoci, andiamo. Allora, questo è la casa di Circe, no? Il Circeo. Il Circeo. Eccolo qua. Questo è il Circeo, che visto da così non si capisce bene com'è fatto, però se noi andiamo un po' più in giù, vediamo che è veramente come un'isola in mezzo alla pinura pontina, che confina con il mare. Da qua, dove stava appunto, vedete il monte, questo, va qui, va giù, una giornata ci sta, arriva, eccoci qua, Ischia, Pitecusa, Greca, Procida, e la zona, e qui c'è Cuma, eccola qui, ah, perché io sto segnando, ma voi non mi vedete, ecco, sopra il Lago Averno, no? Fra il Lago Averno, è quella lì, quella zona. Eccolo qua, il Lago Averno, l'entrata degli inferi, eccoci qua. Va bene? E quindi parlano di questi chimeroi, i chimeroi erano questa popolazione, che abitavano in queste città, chiamate, allora, ci sono varie città chiamate, Chime, Chime in greco, che poi diventa in latino, Cuma. È chiaro che i chimeroi, chimeroi, si chiamano chimeroi, perché prendono il nome dalla città che abitano, che si chiama Chima. Chima probabilmente prende il nome da un'antica divinità femminile, che si chiamava Chima. Di Chima, Chime, Chime, scusate, ce ne sono varie nel, nel, diciamo, in Grecia e in Oriente, nella Tracia. Per esempio, Strabone è nato nella città di Chime, che parla di Chimeri, quindi ci dà una descrizione di Chimeri. Lui è nato a Cuma, anche lui, quindi è chiaro che li conosce bene, quindi saprà, per tradizione orale, una serie di notizie dirette, che lui in qualche modo riporta nella sua storia. L'altro, e quindi, che succede poi quando arriva? Tratta la guzza mia spada, poi dice, scavai lunga ad un braccio da un lato e dall'altro, la fossa, si doveva scavare quindi una fossa, e a tutti i morti, qui d'attorno, libami profusi, di latte e miele, il primo, di vino suave il secondo, il terzo d'acqua, e sopra, cospersi, la bianca farina. quindi lui arriva, viene portato negli inferi, e in prossimità degli inferi, scava una buca, e sacrifica un, ed a Tiresia avrei per lui solo sgozzato un agnello, quindi diciamo che vengono sacrificati, come avviene ancora in altre parti del mondo, dei piccoli animali, che richiamano gli spiriti dei difunti, questo è quello che dice Odissimo, e questo è la pratica, la prassi, che noi sappiamo esistere nei vari luoghi scavati, dove c'era un necromante, un necromante, Ion, il necromante, ma era tutto il tempio, legato a questa funzione di catarbasi. La stessa cosa fa Enea, quando Enea viene, viene mandato anche lui, dalla Sibilla, arriva dalla Sibilla, e Virgilio dice, quindi vede l'antro, si arriva con la nave, vede il grande antro della Sibilla, enorme, pieno di entrate e di uscite, gigantesca nell'antro, la veggente, in furia come una baccante, nel tentativo di scacciare dal petto il grande Dio, quindi lei ormai era invasa, era stato già praticato, è avvenuto l'entusiasmo, l'entusiasmo è il Dio che entra dentro, En Theos, entra dentro la Sibilla, la sua sacerdotessa, e parla per bocca di lei, con parole arcane, con parole non chiare, il Dio ha sempre interpretato, il Dio ha un livello diverso da quello umano, quindi ha anche un linguaggio non umano, diverso, quindi va sempre interpretato. Apollo tormenta la bocca rabbiosa domando l'indomito cuore e docile la rende stringendola con forza e già le cento porte, grandi porte dell'antro si spalancano da sole e portano per l'aria i risponsi della regente. E poi le fa le professia, professia della guerra che è dell'assio richiesta di vedere anch'isa il ramo d'oro, eccetera, quindi gli dice guarda che dovrai fare, non sono finite le due peripessie, dovrai fare la guerra che farà poi la guerra con turno, e la descrizione è questa, c'era una grotta profonda e immensa per la sua vasta apertura, rocciosa, protetta da un nero lago e dalle tenebre dei boschi, sulla quale nessun volatile impunemente poteva dirigere proprio il volo con le ali, quindi protetta da un nero lago, il lago è il lago di Averno che abbiamo visto nella piantina, che infatti significa Averno, Avis, significa uccello, e si diceva appunto che ogni uccello che lo sorvolava moriva, perché il lago emetteva dei vapori velenosi, sul fure. Naturalmente tutti sappiamo che il lago Averno, quando si parla di Averno, è andato all'Averno per i romani, si indicava che era morto, perché l'Averno era il collegamento, quindi anche in età molto più tardi, parliamo di Roma, il collegamento con l'Oltretomba, con la terra dei morti. E anche qui poi più avanti riesce a rivedere il padre, eccetera, eccetera. Quando noi andiamo a Cuma, noi ci troviamo di fronte a questo spettacolo incredibile che è rarissimo, diciamo, ritrovarlo in Europa, cioè un altro della Sibilla, la puoi mettere la foto? Un altro della Sibilla che sta immediatamente sotto l'acropoli di Cuma. Vedete che enormità, è tutto così. Quindi alla fine, camminando dentro l'altro della Sibilla, che era appunto un altro oracolare, la Sibilla doveva stare in una stanza che stava più in fondo, lì poi è tutto per un lato, non si rivede più, ma probabilmente molti dicono che ci fosse un collegamento con il sovrastante Tempio di Apulvo. Quindi sopra l'acropoli c'è il Tempio, l'acropoli è la parte, come sappiamo, la parte più alta e più sacra di una città, perché Cuma era una città che stanno ancora scavando. Cuma è stata scavata per forse un guido, ma ancora non era. Cuma stanno scavando adesso la corail, il teatro, e c'è tutta la parte della città che stanno in basso. La grotta invece era il collegamento tra l'acropoli Alca, dove stava la Sibilla, e il lago Unnè, quindi un tunnel. Questo passaggio, perché la Sibilla c'era un passaggio che la portava al Tempio di Apulvo, un passaggio che la portava direttamente al lago, questo da qui al lago saranno 10 metri, sono vicini al sole, però è chiusa, crollata e non c'è più l'accesso del problema. Quindi, i cimberi, e cosa facevano? Dice sempre, prendevano chi voleva andare a incontrare i nuovi cari con la barca, li portavano sul lago pieno di detti, e lì avvenivano il progetto. I cimberi, quindi, erano dei sacerdoti, diciamo, erano lì intorno della Sibilla, quelli che lavoravano intorno, sì, erano proprio, erano, erano, diciamo, al servizio appunto della Sibilla e del Dio. Rimassi probabilmente anche in età greca, in barra, in cui ci sono, quindi, non so arrivare a dire, che non è che li hanno esterminati, come avveniva sempre, Hanno probabilmente i sottoposti, anche culturalmente, ovviamente, però hanno conservato il, diciamo, il tempo e la pratica della psicogaggia, cioè l'accompagno del Dio. percorso, beh, evidentemente anche perché veramente era, erano secoli, secoli, forse millenni che accadeva. forse millenni esattamente, anche in Grecia c'è un altro santuario che è antichissimo, il santuario di Dodona, che sta nell'Epiro, un po' in alto. Nell'Epiro però, è già Grecia o Albania? No, no, è Grecia. È Grecia. Sì, è vicino a dove arriva il traghetto, come si chiama, Saloniccoli, quella parte lì, che devo dire, io non ho mai visitato, purtroppo mi manca perché è scomodissimo per arrivarci. Beh, Dodona si collega anche al giovedì all'incontro che abbiamo fatto con Pofferi, con Claudio Pofferi, perché quello lì è molto legato, è strettamente legato alla migrazione pelasgica. Eh, certo. E quindi ha tutta quanta la tradizione che poi ci riporta in Italia, che dall'Italia va a Oriente e da Oriente poi torna in Italia. Eh, allora vi dico infatti questa cosa, cioè questi templi erano di origine pelasgica, sicuri, cioè Evandros, Evandro, l'uomo di cui parla appunto Virgilio che stava a Roma sul Campidoglio, sul Campidoglio. No, no, lui stava sul Campidoglio, poi sotto il Palattino c'era la grotta di Caco. No, perché accompagna Enea sul Campidoglio, quando accompagna Enea e gli dice a Enea, qui siamo nel 1200 a.C., gli dice, guarda lassù, guarda le rovine dell'antica città. Pallante, pensate Roma. L'altro Pallante si chiamava, il figlio di Evandro, si chiamava Pallante, ma la città aveva un nome simile, adesso non mi ricordo più qual era, però ricorre ancora sempre, Pallantea, Pallantea, ricorre sempre questa radice che noi ci portiamo dietro in tutti i nostri campi. Sì, sì, certo, certo. Cioè i greci, quando parliamo di greci, parliamo di popoli indoropei che sono arrivati dopo i pelaci, quindi attraverso delle ondate e che hanno in parte cancellato la cultura precedente, ma in parte conservato. Ecco, Dodona per esempio, a Delphi che cosa hanno fatto? Hanno cacciato la divinità estia che è una divinità femminile legata appunto alla serpente, a una visione del mondo legata al femminino sacro e ci hanno messo Apollo che era il dio oracolare per eccellenza greco come è avvenuto a Cuma, la stessa cosa insomma. E quindi questi oracoli, ma i greci probabilmente hanno anche stravolto la pratica, l'hanno conservata, ma stravolta perché non erano più capaci. Pensate che hanno trovato a Dodona una macchina, una macchina, proprio una macchina che sollevava le persone insomma, no? Per cui la pratica era una pratica terribile che adesso vi leggo perché questa valletta è cortissima, se la ritrovo. Allora, praticamente il, non è che si andava negli oracoli, ma questo vale per tutto, vale anche chi andava a Palestrina alla Fortuna, cioè non è che arrivava lì la mattina e la sera andava via perché aveva già, ci stavano mesi, almeno settimane, gli andava ad Epidauro per, Epidauro è una città con ancora un teatro meraviglioso, il più bel teatro della Grecia, lì a Epidauro ci sono gli alberghi, le messe collettive, i resti chiaramente, dove si mangiava, c'è il Tolos con l'alleamento dei serpenti, quindi ognuno andava, cominciava a fare i digiuni, cominciava a pregare, cominciava a fare le incubazioni e alla fine poi andava ad avere il contatto con il defunto, con il Dio, no? Era qualcosa che durava settimane ed era una preparazione di tipo anche spirituale, insomma, no? Per, quindi era qualcosa di molto lungo, intorno ai santuari quindi crescevano le città, Delphi, è una città, anche Delphi c'è il suo teatro altissimo su queste montagne, bellissimo, se andate in Grecia non evitate di andare a Delphi e avveniva così, questo è l'oracolo di Trofonio alla Badea in Beozia, vediamo se è questa che stavo cercando o no. Nel frattempo mentre tu cerchi faccio una piccola nota ha nominato Giuliano la pratica dell'incubazio, non so se tutti quanti sapete cos'è, l'incubazio era proprio il fatto, la pratica del dormire presso il tempio oracolare della divinità insomma che si sceglieva a quale si era collegati che durante la notte si avrebbe dovuto comparire nel sogno portando il rimedio, la cura, l'oracolo a chi lo richiedeva insomma. Era una pratica di guarigione che per esempio a Roma avveniva sull'isola di Iberina nel tempio di Esculapio che sta sull'isola di Iberina non so se ci sei mandato sopra. Stai parlando a me? Sì, sì a te. Eh beh San Bartolomeo San Bartolomeo che poi tra l'altro San Bartolomeo nel cristianesimo viene come una rifondazione cristiana del tempio di Esculapio perché San Bartolomeo tra l'altro è quello che cura i problemi psichici certo gli indemoniati vanno da San Bartolomeo e dopo magari ti racconta anche un aneddoto di un posto qua vicino legato a queste cose qui. Allora quindi questo è diciamo un po' un facsimile di quando una persona andava in un oracolo in un tempio di questo tipo che trafila doveva fare? Questo lo dice Pausania per prima cosa durante la notte lo conducono al fiume Ercina perché c'era sempre come da tutte le parti un lavacolo da fare una purificazione nell'acqua portatolo là due fanciulli nativi della città lo ungono d'olio e lo lavano essi hanno circa 13 anni e sono chiamati ermeti da Ernest no sono figuri gli amorini gli eroti quindi i sacerdoti lo guidano non direttamente all'oracolo ma a due fonti d'acqua che stanno l'una accanto all'altra qui l'interrogante bisogna che beve l'acqua detta di lete che significa dimenticanza affinché insorga in lui l'oblio di tutto ciò a cui pensava fino a quel momento e oltre a questa deve bere anche deve bere ancora un'altra acqua quella di mnemosine che significa memoria rimembranza per effetto di quest'acqua egli ricorda le cose viste nella discesa quindi la memoria a breve recupera una memoria a breve a breve tempo dopo aver contemplato la statua che dicono scolpita da dedalo statua che i sacerdoti non mostrano a nessun altro ma solo a chi è in procinto di regarsi da trofonio trofonio era un dio un eroe un soldato morto divinizzato a cui ci si rivolgeva perché appunto era uno in grado di soddisfare dopo aver visto questa statua averla venerata e supplicata indossato un chitone di lino legato alla vita con sacri nastri e calzate e pianelle di foggia locale si avvia verso l'oracolo è interessante perché entra nel dettaglio che adesso non vi leggo tutto perché è abbastanza lungo quindi l'oracolo è praticamente un buco dove devi scendere in un ambiente sotterraneo non hanno costruito una scala fissa ma quando ci si tratta trofonio gli portano una scala portatile stretta e leggera una volta scesi si trova un'apertura situata tra il pavimento e la parete della costruzione altre ampia due spanne la spanna è la larghezza di una mano è alta come sembrava una spanna chi scende dunque si adagia sul pavimento tenendo delle focacce impastate con miele infila i piedi dentro l'apertura in Sardegna potrebbe essere l'apertura che c'è davanti alla tomba dei giganti no? non so chi la conosce ma è piccolina no? non ci si entra a malapena però è lì che si entra in comunicazione con quindi infila i piedi dentro l'apertura e rientra col corpo chiaramente con molta fatica perché era piccolissima l'apertura avendo cura che le ginocchia gli siano all'interno dell'apertura ed ecco che il resto del corpo è stato trascinato via di corsa dietro alle ginocchia quindi lui è come se fosse trascinato dentro dopo questo momento per chi è venuto a trovarsi all'interno del recesso il modo in cui si apprende il futuro non è né unico né lo stesso per tutti quindi lì avviene questo rapporto con Dio poi no? totalmente personale totalmente personale che lui non può raccontare perché è diverso poi da persona a persona ma uno poniamo lo vede l'altro se lo sente dire quindi uno sente vallare l'altro la via per tornare indietro perché è disceso passa attraverso la medesima apertura e sono sempre i piedi che corrono avanti sostengono che non è mai morto nessuno di quelli che sono scesi a eccezione di uno solo costruito non osservò nel santuario alcuna cerimonia di discesa per consultare Dio ma sperando di trovare portare via da recesso ore e argento e si dice che il suo cadavere comparve alla luce in un luogo diverso e non fu espulso per la sacra apertura quando uno è tornato su da Trofonio di nuovo i sacerdoti lo ricevono e lo pongono a sedere sul seggio detto di Mnemosine situato non molto lontano dal sacro ricinto gli chiedono che cosa ha veduto e che cosa ha saputo e apprese le risposte lo consegnano definitivamente ai parenti questi se lo caricano addosso e mentre ancora è in preda al terrore quindi è un'esperienza terribile è ugualmente incapace di riconoscere se stesso il suo prossimo lo trasportano in quella cappella dove ancora prima aveva divorato presso il buon Deo in seguito però riacquisterà tutti i suoi sentimenti non meno di prima e ritornerà riacquisterà la facoltà di ridere e scrivo questo non per averlo sentito dire ma in quanto ho visto altri con i miei occhi e sono andato io stesso a consultare Trofonio quindi questo è una diciamo un esempio di una catabbasi di una discesa discesa agli inferi e quindi questa cosa che noi abbiamo completamente dimenticato ma è durata anche in età diciamo imperiale fino a che insomma il cristianesimo ha spassato via qualunque forma ma relativamente tardi anche perché ad esempio i misteri e le osini vengono aboliti intorno al cos'è il quarto quinto secolo sì aboliti con Teodosio con la fine del quarto secolo diciamo e sono pratiche comunque nelle zone rurali si mantengono perché ovviamente lì c'è questa ci sono anche i luoghi hanno tirato fuori le vestigie di questi tempi di questi siti oracolari dove si svolgevano tutte queste questi percorsi però anche in Veneto ad esempio c'è una soprattutto nel Veneto orientale nella provincia di Venezia c'è una quantità incredibile di persone che si rivolgono a a chi ha il potere di entrare in contatto con i morti per rispondere a domande consegnare messaggi eccetera eccetera cioè è una cosa poi in Toscana in Tuscia insomma nella zona del lago di Bolsena di cose comunque simili se ne sentono se vai a parlare con gli anziani non in maniera così articolata e ancora visibile per lo meno rispetto ai siti della zona di cui stai parlando tu certo Napoli è una cosa molto diffusa appunto credo che anche queste pratiche fatte tardivamente quindi per esempio in Grecia a Dodone è stata trovata questa macchina e lì chiaramente il paziente veniva gli avevano date delle droghe era praticamente quando arrivava lì non c'è capire niente lì appariva qualunque sacerdote che poteva sembrare un dio e lui lo avrebbe scambiato per dio quindi non è stato solo il cristianesimo secondo me a cancellare queste pratiche le vogliamo chiamare animiste vogliamo parlare di qualcosa di forse anteriore al polideismo ma anche un polideismo diciamo molto che aveva creato già delle casse sacerdotali sapete che Delfi era Delfi era uno stato una città stato la città stato più ricca della Grecia perché chi andava lì a consultare la pizzi alla sacerdotessa doveva portare i doni non è che ci andava così a Roma diciamo doveva bussare con i piedi perché c'era le mani piene di legali quando andate a Delfi appunto lungo la strada il percorso che porta sul Tempio di Apollo ci sono i cosiddetti tesauroi che sono delle costruzioni che ogni città e ce l'aveva ce l'avevano anche non mi ricordo adesso che città di Tusca c'è Cervetri mi pare piene di doni dove mettevano dentro i doni che portavano Delfi è un posto eccezionale perché ogni piedra è scritta in fitta 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 scolpita in greco e non è stato tradotto perché non c'è nessuno si è messo a vedere tra l'altro quello lì in realtà è un un archivio di documenti pazzesco con i quali si riesce tuttora perché continuano a cercare di tradurre leggere trovare informazioni ma incredibili perché riesce a ricostruire degli eventi storici di città di tutto il Mediterraneo però siccome le cose da tradurre sono così tante se pensiamo alle tavolette mesopotamiche sumeriche sono migliaia e migliaia ma che traducono il sumero sono 30 persone hanno detto il sumero fra cui ecco uno io conosco questa Roma che è un ragazzo bravissimo quindi hanno tradotto un pezzettino adesso uscite poi delle cose sconvolgenti solo traducendo una piccola parte ma anche i geroglifici è la stessa cosa anche l'Egitto è tutto ricoperto i geroglifici lì bisogna che qualcuno si mette il fotografa va a casa comincia a tradurre cioè sono lavori diciamo ingombranti non facili da portare avanti e quindi probabilmente anche in età tarda già già si era perso il modo per poter magari effettivamente praticare una incubazione vera come era fatta 2000 anni prima magari no voglio dire l'incubazione esiste da sempre a proposito in Grecia ancora la fanno in alcune chiese ortodosse sulle isole viene praticata l'incubazione nel senso che il fratele va a dormire addirittura dentro la chiesa se non mi ricordo male lì con sé nel senso diciamo e quindi per tornare al discorso iniziale cerchiamo di fare una sintesi adesso questa questa presenza dei nostri cari che secondo me noi sentiamo tutti quando ci abbiamo un ricordo di nostro padre nostra madre di qualcuno che ci è morto e ci commuoviamo è quello è un rapporto come lo vogliamo andiamo a chiamare certo non lo vediamo no e poi noi siamo così disabituati a questa cosa che lo definiamo ricordo quella commuzione perché però insomma io sono convinto che molte persone ci parlano privatamente con i loro cari insomma quindi è qualcosa che non è morto a Napoli assolutamente non è morto a Napoli c'è il cimitero delle Fontanelle beh dico questa cosa fagli vedere le foto se ce l'hai se ne rimedi il cimitero delle Fontanelle è praticamente sta in una zona di Napoli che era un canalone da cui cadeva l'acqua quando pioveva dai monti e i minei che stanno sopra Napoli Napoli è un golfo e questi canaloni eccolo qua formavano canaloni che sono diventati adesso delle vie e ai lati di questi canaloni scavavano delle cave questa è un'antica antichissima cava con cui hanno costruito poi la città guardate che alta che è guardate che alta è enorme è enorme è alta milioni e milioni di metri cubi 18-20 metri è enorme e in questa cava qui durante la pesta che c'è pure in 1580 mi sembra che morirono circa 250.000 napoletani li hanno messi tutti qui dentro e poi ci hanno messo con le invasioni napoleoniche anche tutti i corpi che erano sepolti nei cimiteri intorno alle chiese dentro la città quindi hanno distrotterrato tutto e portato qua poi a un certo punto questa cosa è stata messa un pochino in ordine ma quello che vediamo è solo quello che vediamo vediamo decine di migliaia di teschi messi accatastati uno sull'altro i corpi sono ancora sottoterra il resto dei corpi diciamo gli scheletri ma la cosa particolarissima è che a Napoli adottano una capuzella si dice cioè adottano una cavoccia una capuzella una testa adottano che vuol dire siccome l'ho adottata pure io il guardiano mi ha detto guarda che funziona allora l'ha adotto pure io stavo lì non mi costava nulla quindi l'ho fatto loro queste sono anime pezzentelle cioè anime che probabilmente sono morte improvvisamente senza essersi potute confessare che insomma stanno in purgatorio per come pensano i napoletani che però ancora vivono in qualche modo e richiedono le preghiere da parte dei vivi per poter poi o rinascere o andare in paradiso e quindi il napoletano la signora napoletana sceglie una capuzella la prende la prendeva perché adesso credo che l'abbiano vietato assolutamente ma fino a qualche anno fa per motivi igienici la pulisce gli mette l'olio sopra la lucida quindi diciamo la cura chiedendo però in cambio una una grazia che mia figlia sia promossa che mio marito guarisca dal mare al ginocchio e quindi una volta ricevuta la grazia poi gli porti un voto insomma di riconoscenza e poi il contatto si conclude così no il contatto è per tutta la vita oppure continui per tutta la vita per tutta la vita io ho parlato con i guardiani che sono persone che ne hanno viste ricotte di cruda no loro la parte che ci credono il guardiano dice guarda io ti posso garantire che io ti raccontano le cose però non è questo no è che il napoletano quindi pensa che ci sia anche un defunto un defunto ignoto non è manco un parente questo loro non sanno perché non è che ci sono riferimenti diciamo neanche il senso sanno di questa persona no non si sa nulla si sceglie solo e lì c'è un rapporto diretto con 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 loro ci sono altre due chiese dove ci sono sotto queste queste ma Giuliano scusami ma come la scegli ecco cioè tu sei se io giù io l'ho scelta perché mi piaceva ma nel senso aspetta ma nel senso che ti mettono di fronte a tipo uno scaffale pieno e tu scegli oppure te ne danno una no no teoricamente non le vuoi nemmeno toccare no perché sono c'è una specie di transenna e poi ci sono tutti questi grani ammassati uno sull'altro ma quindi è segreto è segreta la tua scelta in realtà beh è segreta ma pubblica nel senso che tu poi tu invece no dicevo il napoletano il chi controlla napoletanamente chiude un occhio e questi entri prendono la causella alcune gli fanno la casettina no la metto dentro la casettina con i fiocchetti quindi voglio dire insomma c'è un rapporto diciamo fra vivi e morte che è rimasto che non è l'unico perché appunto ce ne sono ci sono anche altre altre forme fra cui c'è per esempio la bella ambriana ne abbiamo parlato l'altra volta no e loro credono che ci sia un fantasma di donna positivo buono che appare nel meriggio circa nell'ora meridiana ambriana meridiana che è un po' la fatina della casa che sta che si attenda guardate che c'è scritto una canzone anche Pino Daniele che si chiama proprio la bella ambriana che lì ci credono tutti a questa cosa non è che si può dire chi più chi meno ci credono pensate solo Napoli al sangue di San Gennaro che anche quella è una cosa se il sangue di San Gennaro non si scioglie la città si ferma non è che si ferma a chiudere i negozi però c'è la città si immerge in una atmosfera di attesa io ce l'ho stato tre volte ci ho portato i gruppi che facevamo un giro per Napoli e c'era c'era un grande artista tedesco che è morto sei mesi fa circa Erma Nietzsche si chiama un artista internazionale insomma grandissimo che ha comprato un palazzo e lì ci faceva delle installazioni e ci ha messo molte opere che faceva sempre legate agli antichi sacrifici pagani con dei riti collettivi dei video faceva delle cose particolarissime e quindi andava a vedere la mossa di Nietzsche e poi andare a vedere col gruppo il sangue di San Gennaro che anche quella è una cosa misteriosistica perché è un rapporto con di tutta la popolazione non solo quelli che ci partecipano che sono tanti ma c'è una partecipazione di tutta la città tu vai e chiedi ma lei no no San Gennaro San Gennaro San Gennaro ci credono se non si scioglie il sangue come è successo e il sangue funziona così che il prete prende questo tabernacolo lo porta davanti alla folla davanti ci sono poi c'è tutto un comitato di donne in prima fila che prega fa delle giaculatorie facilitando quindi lo scioglimento del sangue e lui e il sangue si vede che è fermo comincia a scuotere questa cosa e poi piano piano a volte la maggior parte di volte il sangue si scioglie fuori di quelle però di quelle date non lo fa il sangue non si scioglie non è stato mai indagato perché il tabernacolo è chiuso non è apribile e il sangue è stato noi non sappiamo di che stiamo parlando però è una credenza anche lì con il sangue con la moglie qualcuno che è morto un santo che protegge la città e quindi Napoli che secondo me appunto è una città straordinaria ancora c'ha diffusa ma penso per esempio la cappella di San Severo il famoso Cristo velato no? il principe di San Severo che era un un esoterista che ha fatto questa cappella che non è bella solo per il Cristo perché intorno ci sono poi è un percorso praticamente alchemico in cui lui è immaginato tutti i suoi parenti quindi il padre la madre il nonno la nonna il nonno sì 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 Antonio Corradini Antonio ah Corradini sì scusate Corradini Corradini ah Corradini sì sì no aspetta no 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 nell'intenzione del committente la stata doveva essere eseguita da Corradini che per il principe aveva già spinto la politizia tuttavia Corradini morì nel 52 fece in tempo a terminare solo un bozzetto in terracotta del Cristo in realtà è stato un artista napoletano Giuseppe San Martino vabbè San Martino San Martino che era un ragazzo era giovanissimo e ha fatto un'opera incredibile perché c'è questo velo che sembra velo è vero insomma infatti il principe di San Severo diceva guardate che quello è un velo vero che io attraverso il senso di il chemico ho pietrificato vabbè non parliamo di questo parliamo ecco di lui lui che il percorso al chemico avviene attraverso i suoi parenti defunti che ognuno rappresenta un livello un passaggio verso diciamo uno stato di perfezione la morale l'onestà e poi a Napoli ci sono le le gianarie tutti pensano che ci siano queste gianarie questa presenza delle gianarie le gianarie è una cosa antichissima che lì c'è questa sopravvivenza cioè scusate non tutti pensano è diffusa l'idea di questa presenza soprattutto notturna delle gianarie ma le gianarie nel nome ci hanno in sé Iannua Giana Iannua Iannua è la simbica porta a Roma l'antica dea Iannua è una dea pre-romana latina antichissima che secondo me è stata la pre-romana corredrice di Iannus quindi quando si è diciamo patriarcatizzato il culto un dio maschile anche se antichissimo Giano è antichissimo forse si è sostituito o si è aggiunto o forse era una coppia o si è aggiunto appunto come paredro come figlio marito no ma le gianarie le gianas in Sardegia ci sono le domus de gianas come sapremo che sono che sono delle necropoli con delle dombe a grotticella che vengono chiamate domus e gianas tu chiedi ai Sardi ma che vuol dire gianas gianas vuol dire fate streghe fate fate maggiano significa passaggio era un passaggio che riguardava probabilmente quando ancora non c'era distinzione fra tempo e spazio era un passaggio fra un prima e un dopo noi infatti diciamo prima per dire sia in termini temporali che in termini spaziali è arrivato prima di me o la tua casa sta prima della mia no e voglio dire in origine era la stessa cosa quando si tratta di un passaggio il passaggio più importante fondamentale qual era in età arcaica io di questo sono convinto era il passaggio dalla vita alla morte e dalla morte alla vita bene se si credeva quindi che tutto era il tempo era un tempo ciclico c'era un eterno ritorno no e quindi le età vulto e gianas molto probabilmente erano è il diciamo il residuo filologico no di antichi sacerdossi femminili in cui le gianas erano delle sacerdotesse che gestivano i transiti dalla vita alla morte nelle necropoli che gestivano il passaggio dalla vita alla morte e forse favorivano anche le rinascite attraverso delle ritualità che c'è in molte domande ci sono delle cose particolarissime io di questo sono convintissimo e che sono rimaste nella memoria diciamo volare come domande gianas è interessantissima sta cosa qui perché effettivamente abbraccia un sacco di culture trasversale però la cosa interessante è che in tutti questi luoghi esiste effettivamente trovi questa coppia divina dove c'è comunque un dio legato anche ha un aspetto oscuro ma nel vero senso della parola del colore che arriva proprio ad essere individuato come il nero soranus vuol dire il nero appollo è uno degli epiteti di soranus pochi anni fa hanno trovato questa scritta questa lapide sul soratte che definisce sorano appollineo e noi abbiamo questa idea di appollo come luce del sole celeste in realtà Apollo ce l'hai fatto vedere te a Kuma ma in tante situazioni è legato invece a questo tipo di mantiche che ha a che fare con il contatto con il mondo di sotto è veramente quello che sta tirando fuori è estremamente interessante e noi nel corso di geografia sacra l'abbiamo visto a ripetizione perché io continuo a ripeterlo quando escono fuori queste questo filo rosso no certo è così la katabasi il rapporto con i defunti è un di cui fa parte dell'attività della mantica diciamo e della divinazione che poi è la stessa cosa è la mantica in greco mantiche e divinazione la divinazio in latino ma è esattamente la stessa cosa che però è una cosa molto articolata che veniva praticata in modi anche molto diversi perché non non sempre c'era un dio che ci poteva essere anche un indovino l'indovino che indovinava Tiresia indovinava vedeva no senza il bisogno di un dio quindi quella è qualcosa che appartiene quindi era una cosa articolatissima e in questa articolazione c'era pure appunto la capacità dei defunti dei nostri dei nostri cari che vedevano più di noi insomma pensate che a Roma i lari erano delle statuettine che identificavano il defunto delle statuettine di Terracotta che loro pensavano in qualche modo che era una cosa anche molto misteriosa lari penati mani capire le differenze una cosa molto complicata però diciamo che possiamo dire che i lari erano appunto queste statuettine dove la famiglia che stava dentro la casa quindi che proteggeva tutta la famiglia e gli antenati stavano lì ma loro pensavano che stavano proprio lì che si insediavano nel lì nella loro presenza cosa è lì quando Enea viene da Troia qui che si porta appresso si porta appresso il figlio e fa e i lari che non potevano e si è lasciati insomma quindi questa presenza degli antenati nella Roma ma non arcaica parliamo anche della Roma tarda imperiale permane permane rimane quindi loro hanno la sensazione l'idea era un pochino quella dell'albero genealogico dove sopra c'era il genius genius che era il capostiglio della famiglia e lì quando uno moriva in qualche modo ritornava su quell'albero e poi quando uno nasceva prendeva lo spirito di qualcuno che stava su quell'albero genealogico quindi era una specie di di rotazione nelle nascere quindi era un'idea anche il nome di dispater dispater ha a che fare con questa cosa qui è proprio cioè il padre dei padre dei padre del padre è il primo la prima pietra su cui si fondono le varie generazioni e sta comunque è una divinità ctonia cioè sotterranea comunque legata al mondo di sotto al mondo buio oscuro nero e da qui prima dicevamo il discorso di necromante o negromante che tu hai un'idea eh sì io ho un'idea la dico eh beh prego se non sono no che si chiama necromancia in greco però poi è uscita fuori questa parola negromancia necromancia necromancia che sono equivalenti però se tu vai a cercare ma scusa ma perché in origine necromancia col 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 k greco no con la x greca insomma e necromancia è uscita fuori e secondo me invece di come sono pratiche soprattutto fatte in Africa e necromancia è una parola uscita fuori molto recentemente insomma prima non è che il 500 lo trovi nel 500 necromante beh nel 700 sì 700 sì ecco inizia con perché io ho il manuale del necromante ecco le colonie inizia con le colonie e quindi c'è questa cosa del negro bel negro però è un'ipotesi a me una cosa è una sensazione Sandro pensa altre cose però può essere non è importante però quando uno parla oggi parli di necromancia immediatamente ti scatta l'idea a una persona diciamo che non sa nulla immediatamente scatta l'idea che sono pratiche voodoo pratiche terribili o c'è il sangue fatte dai neri insomma come l'omicidio che è avvenuto a Roma vabbè non è non è questo importante ok ascolta ma adesso mi rivolgo agli altre presenze invisibili che anche qui abbiamo i lari o i penati ma avete qualche domandina da fare volete intervenire anche voi dai non siate timidi per esempio la proposta di farci un viaggio diretta Napoli sulla base di una cosa vi assicuro che è un'esperienza molto particolare bella mi piace molto cioè il museo archeologico di Napoli che è il più bello museo archeologico d'Italia insomma assolutamente d'Italia d'Europa no perché c'è quello di Atene però è bellissimo veramente sono delle cose da vedere che sono assolutamente da vedere parte Pompei Ercolano le cose insomma che sappiamo signori vi lascio la parola volete dire qualcosa allora faccio una cosa io allora intanto grazie stupendo veramente grazie io ho letto una cosa che per me è stata divertente riguardo come si chiamano le testere le capuzelle giusto quelle capuzelle che le prendevano in carico diciamo per chiedere grazie o per ricevere i numeri da giocare all'otto se non succedevano queste due cose le riportavano e le scelevano un'altra non le riportavano perché non potevano diciamo portarle fuori no ok però sì perché se non non soddisfaceva loro l'abbandonavano diciamo allora io passo me ne prendo un'altra c'è un rapporto perché questa cosa c'era un diciamo un quindi l'ingresso era libero fino a credo l'altro anno adesso stanno rimettendo le cose a Napoli invece tutto a pagamento vediamo delle cose con tutto gratuito era praticamente c'è la cosiddetta piscina mirabilis dove se ci andiamo che è una cosa meravigliosa bellissima che era praticamente una cisterna d'acqua che riforniva tutta la flotta di Capomiseno romana insomma in età imperiale con con Augusto eccetera che è uno spettacolo perché è una cattedrale sotterranea con tutte le colonne per poter reggere il tuffo che si riempiva d'acqua ma ancora è bella perché ancora c'è l'acqua che era gratuita cosa inverosimile lui dovevi telefonare inizialmente a un signore anziano che lui abitava lì vicino veniva con la chiave ti apriva e tu entrai con lui una cosa proprio alla napoletana poi il signore anziano è morto e questa cosa l'era tirata la figlia questi campavano praticamente con le marce che gli dava la gente ma su iniziativa personale e adesso invece hanno diciamo istituzionalizzato non so se è una cosa positiva o negativa io penso che sia negativa però hanno messo otto euro eccetera toglie la poesia diciamo toglie la poesia e così ci mettero delle fontanelle e si entrava gratuitamente e poi c'erano tre quattro guardiani così non facevano nulla chiaramente non andavano a guardare stavano all'ingresso e tu gli chiedi ma senta un po' e quello cominciava a parlare perché i napoletani sono così e te raccontava tutti gli episodi ma episodi veri perché loro ci sono stati poi vai a capire anche i episodi suoi mi raccontavano insomma e diceva appunto che dico ma scusa ma ancora come no accetteviere ancora oggi e voi e noi che facciamo lasciano fare insomma quindi è qualcosa di ancora insomma di ma io ho parlato anche con persone insomma diciamo colte che dicevano ecco sì dice noi crediamo dice come fai no lo diceva direttore dice come fai a pensare che siamo soli non è possibile no cioè intorno a noi c'è quello non lo vediamo più qualcuno di noi riesce a vederlo a immaginarlo oppure ci entriamo in contatto ma non riconosciamo questa cosa quello che dicevo prima io io quando verso a mia madre mi commuovo per dire quella commozione che cos'è può essere veramente il contatto che noi adesso lo valutiamo così come un episodio che succede a tutti ma magari da altre persone possono invece farlo diventare contatto reale non so come dire insomma guarda io ho avuto personalmente un'esperienza molto forte perché c'è stato un lupo importante di tante persone contemporaneamente nella mia famiglia quindi questo è in un modo anche abbastanza forte allora questo inizialmente crea uno shock almeno a me l'ha creato insomma è stata una cosa anche che ci ho messo un po' di tempo a rielaborare dopodiché però forse per una reazione di comunque non voler perdere completamente il contatto con i cari in un modo o in altro cambi o rielabori il dolore il lutto e si crea questa pacifica tranquilla connessione quotidiana ma è di una squisitezza unica e io onestamente non mi scompongo neanche più adesso sento delle cose oppure è come se fosse sapessi anche chi le fa no? di tutto questo numero che ho alle spalle e credo che perlomeno nella nostra cultura occidentale la morte sia un po' un tabù no? è stata non lo so ho l'impressione che sia stata un po' messa da una parte nascosta forse probabilmente la chiesa ci ha messo del suo su questo mentre tantissime popolazioni c'è addirittura la santa muerte mi sembra che sia a Messico in quella zona che viene adorata e quindi è una cosa normalissima e in casa addirittura rarissime persone tengono ad adesso la foto del defunto perché si dice che porti male che sia una negatività invece io personalmente ritengo che onorare in modo sano la memoria dei propri cari crea una condizione pazzesca e c'è un continuo passaggio anche di quello che possono essere certe cose che vengono tramandate se hai una connessione nel sogno perché io mi sogno tantissimo ad esempio di mia mamma e so che mi dice un sacco di cose che magari non comprendo nell'immediato queste non sono visioni sono proprio per me sono diventate la normalità allora io non è che parlo con i morti però probabilmente per tutti questi fatti che mi sono accaduti sono riuscita a decodificare questa sorta di linguaggio e come dire appropriarmi di quello che mi dicono insomma di queste a volte sono suggerimenti insegnamenti a volte sono proprio cose anche di cuore che si rivivono certe situazioni ecco no grazie questo è quanto beh io credo insomma credo che sia una testimonianza definitiva no perché questi sono sono cose che accadono un po' a tutti credo ognuno di noi magari poi non ne parla perché sono cose un po' intime però se ne parlassimo ci accorgeremmo che sono diffusissime fra tutti quanti solo che non ne sappiamo gestire in altri tempi in altri luoghi c'è qualcuno che riesce a gestirle e a farle diventare magari una parte della nostra vita no perché insomma lo sono di fatto no voglio dire il sogno voglio solo il dormire è il sogno no chi ci arriva in sogno quindi figuriamoci noi non li consideriamo perché non consideriamo più la morte cioè la morte è qualcosa che noi abbiamo accantonato come se fossimo immortali noi viviamo come se fossimo immortali e poi ci accorgiamo a un certo punto e noi ci diciamo oh porca miseria so male che è una cosa veramente che è il contrario di quello che facevano le popolazioni arcaiche in cui la morte era 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 la vita la morte e la vita erano la stessa cosa insomma che camminavano insieme no cambia solo la forma fondamentalmente eh certo grazie grazie davvero c'era qualcun altro mi sembrava che ciao è stato molto interessante io sono stata a Napoli e tornerei volentieri veramente una città magica è piena di colori emozioni e anche dentro Cristo velato dentro mi ha colpito nella stanza nella camera del letto lui aveva un corpo umano fatto di fatto di ferro tipo di rame però veramente in sistema circolatorio fatto perfettamente realmente e non si sa lì non si sa non si sa se è reale se l'hanno messo dopo veramente l'hanno fatto lì una cosa strana perché anche lì non si sa il principio di Sansevero ha lasciato scritto una lettera lui è stato così furbetto che ha scritto una lettera in cui dei due corpi che sono due corpi un uomo e una donna sotto allora immaginatevi un corpo umano senza la pelle ma solo col sistema circolatorio quindi le vene i capillari che è una cosa infinita e lui che cosa ha detto io ho iniettato un liquido che ho inventato io perché sono un alchemico nel sistema circolatorio di due servi che sono morti poi è scomparso tutto il resto e è rimasto il liquido quindi noi vediamo praticamente solo il liquido che si è andato a depositare dentro le vene il sistema arterioso venoso i capillari eccetera e forse lo scheletro mi pare che c'era però c'era anche lo scheletro comunque adesso anche adesso c'è la stazione di Milano Museo Body se entrerete dentro e vedete la stessa cosa identica questo mi ha colpito tanto ho comprato anche un libro ma non troverò mai tempo di leggerlo una statua del Corradino la troviamo anche qui da noi a Monselice al Duomo di Santa Tecla a Monselice c'è adesso non mi ricordo chi è un angelo una madonna comunque è una di quelle statue le velate creata con insomma quel tipo di tecnica ecco se siete in Veneto e volete vedere una magari più vicina intanto iniziate con quella di Monselice e poi si va col signor Giuliano a Napoli a fare un giretto vi volevo dire ecco c'è un artista non so se lo conoscete che si chiama Iago famosissimo bravissimo che ha fatto il ragazzo velato andatevelo a vedere perché a parte lui è bravissimo secondo me è una specie di Michelangelo insomma nella scrittura con una tecnica insomma che nulla che invidiare al al Cristo velato di Napoli e ha scelto come città dove lavorare Napoli Napoli è andato a Napoli per dire no Iago che è un artista insomma di fama internazionale allora io mi interesso anche di arte contemporanea perché penso che l'arte contemporanea in alcuni rarissimi casi però sia l'unica pratica che riesce a rendere visibile l'invisibile non puoi fare discorsi cose invece nell'arte ancora si riesce insomma a fare qualcosa di che facevano queste che ne so i misteri leusini per dire che succedeva qualcosa che nessuno è in grado di spiegare né di definire però qualcosa succedeva insomma è qualcosa che non è razionale che non è che capisci attraverso un percorso logico però lì intere masse di popolazione gli succedeva qualcosa io penso che fosse qualcosa come il nostro innamoramento quando noi ci innamoriamo ci cambia la percezione del mondo avviene qualcosa in noi endorfine cose ma che ci cambia non è che la percezione delle cose e gli antichi erano capaci di produrre innamoramento anche collettivamente ecco qualcosa che ci permetteva di vedere il mondo con un con un approccio completamente un approccio diciamo spirituale psicologico completamente diverso e non può fare l'arte oggi l'unica cosa può fare l'arte non c'è un'altra un altro mistero quando verrai a Pitigliano se verrete anche voi sarà un grande piacere ospitarvi ti faccio conoscere questo questo grande scultore che si chiama Maurizio Duzio di Pitigliano ma stai parlando a me a te sì ma Maurizio scusa quello che c'ha sulla salita siamo andati insieme che adesso ha messo una statua di una Sibilla sotto nel infatti eravamo andati insieme poco prima di l'inaugurazione allora lui riesce riesce attraverso le sue forme la sua quella che lui chiama estetica a rappresentare quello che poteva essere la divinazione etrusca ma tu guardando la sua opera ti rendi porca miseria lui accolto coglie attraverso un'immagine che non è una cosa razionale non è spiegabile perché poi un'opera d'arte che è spiegabile non è un'opera d'arte un'opera d'arte non può essere spiegata insomma o ti piace o non ti piace o ti acchiappa o non ti acchiappa questa è la cosa quindi devi portare il tuo gruppo anche a Pitigliano non ce l'hai mai portato eh no e poi a Pitigliano gli hanno parlato del cunicolo dell'iniziazione tu l'hai fatto Giuliano sì 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 e ecco quello è una delle parti diciamo del del giro di Pitigliano più più magica in assoluto tutto il resto sono posti veramente che parlano magici sì ma l'iniziazione all'energia del buio al linguaggio del buio alla forza della terra è qualcosa che ti entra veramente nelle ossa nessuno lo dimentica mamma mia e vi dico che Giovanni Feo la prima cosa che mi ha fatto fare in assoluto è stata proprio ma quando sono andato a trovarlo la prima volta mi ha preso mi ha portato all'imboccatura di questo cunicolo che è immaginatevi 70 centimetri di larghezza per 1,60 poi non vi dico dentro con me fa un percorso e fa bene adesso tu entra qui e ti aspetta dall'altra parte e questa è stata la mia vera e propria iniziazione al mondo etrusco al mondo di sotto al mondo dell'oscurità è un'esperienza indimenticabile terrifica come si dice nel senso proprio di terribilis est ist locus e porta cieli e terre quando si inizia a parlare di queste cose qua anche qui avviene la magia stiamo tutti bene ci dimentichiamo il tempo questo è lo spirito dei salotti delle meraviglie ti ringraziamo Giuliano ci vediamo giovedì prossimo grazie mille a tutti quanti grazie grazie Giuliano grazie 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 a tutti grazie a tutti